Allora, ho messo un filtro Adorage, la nebbia, tuttavia quando va nella transizione, qui mi compare la schermata Start Adorage, eccetera, eccetera, poi compare la nebbia, però se vado in Play, cosa succede? Che va velocissimo la lettura, va velocissima e non capisco come mai, partendo dal progetto anche all'inizio va tutto veloce e non capisco per quale motivo.